Tutta colpa di Cenerentola, spettacolo promosso da Arte in Azione, siamo qui con la regista e l'ideatrice Francesca Bucchicchio. Francesca, cosa aspettarsi? Aspettarsi è una sorpresa, ma sarà sicuramente un colpo al cuore, perché noi racconteremo di donne, racconteremo la storia, la nostra storia, il nostro background, racconteremo dei nostri fallimenti e racconteremo anche delle battaglie vinte, partendo dalle streghe, arrivando a Cenerentola, che è il nostro pretesto per lanciare questo forte messaggio e arriveremo, non vi raccontiamo dove, per cui vi aspetto. L'edento nasce anche grazie al sodalizio con FIDAPA, siamo qui proprio con la Presidente Donata Pippa. Di cosa si occupa FIDAPA? Qual è il suo fine? FIDAPA, che significa Federazione Italiana Donne, Arte, Professioni ed Affari, Conta in Italia circa 11.000 socie e 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale. Un'associazione senza scopo di lucro, indipendente, che persegue degli obiettivi senza distinzione di etnia, lingua o religione. In questa occasione abbiamo voluto, con la collaborazione della compagnia teatrale Arte in Azione, creare un evento che tocchi il cuore delle persone. Infatti pensiamo che mettere in scena una storia può far riflettere più profondamente rispetto ad una lettura o ad un convegno e quindi aprire un dialogo per affrontare questi problemi. Noi vorremmo che il pubblico lasci il Palazzo Albano Gaeta con la consapevolezza di tutte le sfide che le donne di ieri e di oggi hanno dovuto affrontare e continuano ad affrontare e che si cominci veramente a fare qualcosa per andare verso un cambiamento reale. Dottoressa Loletta, tutta colpa di Cenerentolo, ma a chi si riferisce questa metafora di Cenerentolo? La metafora di Cenerentolo è rivolta alle Cenerentole moderne, che possiamo distinguere due categorie di donne. Quelle che vengono violentate ed oppresse soprattutto dal punto di vista psicologico. Non è tanto la violenza fisica, quella che si vede, ma quella psicologica, delle matrigne, delle sorellastre che nella metafora odierna sono costituiti dai mariti, dai datori di lavoro, molte volte anche dai figli che diventano violenti nei confronti delle mamme. E quindi la metafora di Cenerentolo si rivolge a questa categoria di donne, a quelle oppresse, perché appunto trovino in questo spettacolo, in questa rappresentazione, in questa metafora moderna la capacità di liberarsi da queste catene. Catene a cui è riferita anche la seconda categoria di donne, quelle che aspettano il principe azzurro, che lasciano la loro scappetta, oggi purtroppo di targa e di misura più grande, le donne hanno acquisito una capacità maggiore di autodeterminazione e non dovrebbero aspettare il principe azzurro che appunto le dà il posto di lavoro, che le dà l'affetto, che le dà la realizzazione in campo professionale e anche in campo sociale. Le donne appunto si devono ribellare, spezzare le catene della dipendenza affettiva e la metafora di Cenerentola e del principe azzurro è l'espressione di questa, diciamo, dipendenza cattiva, diciamo, è un'espressione cattiva a cui le donne non devono appunto adeguarsi ma devono aspirare appunto a raggiungere il proprio sé, togliendo le catene della difendenza affettiva, autoaffermandosi. Proprio in questo modo raggiungono quella libertà che spesso, purtroppo, ancora oggi non c'è. Tante saranno le performance artistiche che saranno comprese all'interno di questo evento, ricordiamo tutta colpa di Cenerentola, tra cui anche queste installazioni, dal nome Impronte. Impronte perché la prima impronta è quella di Cenerentola, le altre sono le impronte delle donne del passato. Donne del passato dalle quali però non si è imparato molto. Due infatti saranno i monologhi, parte integrante di questo evento. Uno sarà quello che interpreterà lei, nel quale la protagonista sarà una donna del Novecento. Sì, insomma, come attrice io do voce a tutte le donne a cui è stata soffocata. In tempi passati, purtroppo, le donne, per farle tacere, venivano rinchiuse nei manicomi oppure nelle prigioni. Io racconto di tutte le donne che sono riuscite, praticamente, a portare avanti questo discorso e quindi ce l'abbiamo fatta. Quindi oggi possiamo dire di aver fatto, insomma, un grande passo verso la libertà, insomma, verso una posizione più agevole, anche se c'è ancora molta strada da fare, insomma. Due monologhi che sono uniti da un filo conduttore. Il sacrificio delle donne del passato, che corrisponde un po' al sacrificio che forse ancora si fanno, le donne nel presente, donne che difficilmente riescono a conciliare la vita, il lavoro e la vita privata. E' proprio questo il tema del secondo monologo. Sì, infatti, il mio personaggio racconta dei condizionamenti, delle sofferenze che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro e in famiglia. Purtroppo la strada è ancora in salita e sia il mio monologo, ma che tutto lo spettacolo offre importanti spunti di riflessione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. All'interno dell'evento ci sarà anche spazio per la musica, con l'esibizione di Mimmo Felitti. Sono tutte composizioni originali, rimontate per l'occasione sulla base un pochettino degli umori che sono venuti fuori da una prima visione del video che ha preparato Francesca. Quindi fondamentalmente, come tutte le live performance di musica elettronica, mirano a stimolare emozioni, fondamentalmente. Quindi spero che in qualche maniera esaltino quelli che in questa occasione sono contenuti anche importanti.